Riprendiamo quindi il discorso su questo rapporto non esente da ambiguità fra la psicoanalisi da una parte e l'opera sveviana, in particolare la coscienza di Zeno dall'altra. Ho parlato nel video precedente, nell'episodio precedente, della prefazione del dottoresse. Bisogna dire questo, nella conclusione della prefazione il dottoresse si augura che Zeno possa ricominciare la terapia perché avrebbe molto da scoprire su di sé, rileggendo anche quello che ha scritto a proposito delle sue molte verità e delle sue molte bugie. Viene qui introdotto appunto il tema del rapporto che esiste fra verità da una parte e menzogna dall'altra. Zeno parla di sé in questa autobiografia scritta per uno scopo inizialmente terapeutico, come introduzione a quella che avrebbe dovuto essere poi la terapia vera e propria. Parla di sé, ma è del tutto sincero quando parla di sé stesso e soprattutto se racconta qualcosa che non è vero, qualcosa che non è attendibile, è consapevole della sua menzogna oppure in qualche modo è portato ad autoilludersi che quanto lui sta raccontando, che quanto lui sta scrivendo sia effettivamente la verità. Ecco, effettivamente questo avviso del dottoresse ci mette un po' in guardia sul fatto che quello che Zeno ci racconterà possa essere considerato del tutto vero, del tutto sincero. Ci sono molte verità e ci sono molte bugie in questo racconto, ci dice questo dottore. Ma del resto abbiamo visto anche che il dottore stesso, questo dottoresse, non è lui per primo un personaggio completamente attendibile. Quindi Svevo, l'autore, è particolarmente perfido, si potrebbe dire, nel disorientare il lettore. Perché qui noi abbiamo due personaggi in qualche modo, due voci narranti all'interno di questo romanzo. Il dottoresse che appare all'inizio come una sorta di cornice introduttiva, lo stesso Zeno che fra l'altro dichiara di non fidarsi affatto del dottoresse ha nei suoi confronti un atteggiamento negativo che noi siamo portati anche a condividere perché come ho detto il dottoresse non sembra essere un personaggio particolarmente simpatico visto la sua scelta di rivendicarsi di un paziente per un'interruzione di terapia. Ma ciò detto e quindi avendo notato che in fondo tutto ciò viene giocato molto molto sul filo dell'ironia e quindi quello che rimane di tutto ciò è l'idea che quello che ci racconta Zeno non sia del tutto vero. Che forse lui stesso non è in grado di distinguere la verità dalla menzogna in ciò che lui ci racconta e si racconta di se stesso che in definitiva come si suole dire Zeno sia un narratore inattendibile e quindi i lettori non possano affatto fidarsi di questa verità che viene esposta nel romanzo. Romanzo che racconta la vita fra l'altro di Zeno ma non seguendo un ordine cronologico preciso perché ogni singolo capitolo è incentrato su un tema il fumo, il matrimonio, storia di un'impresa commerciale, la psicanalisi, io e la guerra eccetera e all'interno di queste sezioni, di questi capitoli, lo stesso episodio viene raccontato in modi diversi, alcune fatti della vita vengono anticipati, altri invece vengono presentati dopo, cioè c'è un generale rimescolamento della linea cronologica, quindi tutto viene raccontato così per associazioni, appunto come emerge durante la scrittura alla superficie della coscienza dello stesso Zeno. Ma al di là diciamo di questa particolarità che fra l'altro è una particolarità nuova rispetto a quello che era invece un romanzo tradizionale in cui alla fine come si dice fabola e intreccio tendono in generale a coincidere, mentre qui invece è tutto un gioco di anticipazioni e anche di ritorni all'indietro, quindi di flash forward ma anche di flashback come si dice. Al di là di questo resta ecco importante questo tema il narratore inattendibile, cosa c'è di vero, cosa si nasconde dietro le scelte che a volte sembrano assolutamente casuali come quella per esempio che conduce Zeno a scegliere la moglie, cosa c'è dietro a queste scelte? Ci sono dei calcoli ragionevoli oppure tutto avviene per caso sotto la spinta di impulsi che il soggetto non controlla, non può controllare. Come ho detto Zeno è un nevrotico e quindi non possiamo nemmeno sapere quando lui parla di sé, se esattamente lui è consapevole della verità e della menzogna di ciò che dice, se lui è consapevole di raccontarsi delle storie anche autogiustificatorie a volte. Ci sono molti esempi all'interno del romanzo, uno per tutti è il rapporto controverso con la figura del padre verso il quale Zeno asserisce di aver provato insomma grande amore, grande affetto, grande ammirazione anche, però se noi andiamo ad indagare, posso solo accennarlo data la brevità del video a questo tema, se noi andiamo ad indagare in realtà noi vediamo che in fondo la pulsione più autentica è una pulsione aggressiva nei confronti del padre e questo si vede ancora meglio per quanto riguarda il rapporto con la moglie, con la moglie Augusta che lui sposa quasi per caso ma lui in realtà ama e asserisce anche di ammirare perché Augusta in qualche modo da a Zeno che è appunto un nevrotico ipocondriaco preso da mille ansie e mille fobie da come dire la stabilità, soprattutto una stabilità di tipo borghese. Augusta è una persona perfettamente lineare, almeno in apparenza, è una persona assolutamente sana, è una persona che ha tutta la sua costellazione di valori, di certezze che reputa indiscutibili, una frase che viene detta nel ritratto di Augusta è questo, visto che la terra gira non c'è mica bisogno di farsi venire il mal di mare per questo, d'accordo? È una persona rispettosa delle convenzioni e rispettosa delle autorità che sa come comportarsi nella vita coniugale, nella vita quotidiana all'interno di un matrimonio e quindi rappresenta una certezza certamente per Zeno. Ma nel momento in cui Zeno Zeno descrive, ed è una pagina fondamentale nel romanzo questa, la salute di Augusta, questo suo essere tranquillamente convenzionale, sicura di sé, sicura dei suoi diti, si cambia l'armadio a un certo periodo della stagione, si sistemano le vesti in un certo modo, quando bisogna si va in chiesa e si prega eccetera eccetera eccetera, si vive la luna di miele in una certa maniera, si arreda la casa secondo determinate regole, quindi tutta una serie di cose molto molto normali. A un certo punto però Zeno si ferma in questa sua descrizione di Augusta dopo aver detto fra l'altro che il periodo della luna di miele è probabilmente stato il periodo più felice della sua vita e anche quello più sano e dice. Io mi rendo conto che nel momento in cui sto descrivendo la salute di Augusta io la presento quasi come se fosse una malattia perché in fondo avrei dovuto forse, ci sarebbe stato bisogno forse di strappare Augusta a questa normalità a problematica, priva di problemi, priva di questioni, priva di interrogativi, insegnargli un po' di filosofia e fargli vedere in realtà che cosa si nasconde e che cosa c'è di straniante nel mondo di tutti i giorni e nella vita di tutti i giorni, di quale natura sono i dubbi e le ansie di cui è vittima lo stesso Zeno. Quindi è questo diciamo così anche un po' il cuore del romanzo. Abbiamo da una parte un rapporto estremamente controverso con il tema della verità perché Zeno non ci racconta tutto quello che ci dovrebbe raccontare, non lo racconta a se stesso soprattutto. Per esempio ho detto che lui nel momento in cui parla della sua luna di miele dice che è stato il momento più sereno e più felice della sua vita, però poco sotto, come dire, quasi per caso ci racconta tutta una serie di ansie, di paranoie, di fobie di cui lui è comunque rimasto vittima anche in quel momento di apparente e a problematica felicità a fianco di Augusta. Quindi anche questo è significativo, ci sta dicendo che bella la mia luna di miele e poi si viene a scoprire che in realtà lui ha avuto tutta una serie di ansie e di sintomi nevrotici esattamente simili a quelli che in qualche modo l'hanno perseguitato per tutta la vita. Ecco, sono queste le spie di un racconto che non è affatto lineare e di un personaggio che è molto complesso e molto contraddittorio. E per questo motivo è importante il ruolo della psicoanalisi, perché la psicoanalisi, strumento per scrittori, come pensava appunto Svevo, in qualche modo ci conduce nelle pieghe di questa ambiguità, ci fa vedere come l'io non sia questa cosa così tranquilla come la coscienza, possa essere definita e qualcuno l'ha definita anche una sorta di incoscienza. Qualcuno ha detto che, a dir la verità, il vero titolo del romanzo sarebbe dovuto essere l'incoscienza di Zeno, perché lui fa tutta una serie di scelte non coscienziose, non razionalmente ponderate, ma tutta una serie di scelte che gli arrivano addosso quasi per caso, quasi per un impulso incosciente insomma. Quindi anche questa è un'ambiguità forte. E accanto appunto abbiamo questo Zeno nevrotico che soffre la sua condizione di inetto, va bene, sia pure in questa chiave molto spesso ironica con cui ce la rappresenta, però poi ci sorge il dubbio, e appunto lo si vede quando lui descrive la salute di Augusta, che in definitiva la malattia non sia che un modo straniato di considerare l'assurdità della vita dei cosiddetti sani, di coloro che non si pongono nessun tipo di problema, va bene, quando invece di problemi ce ne sono molti. Se la malattia psichica individuale, l'ansia, la nevrosi, è causata in fondo da un mondo esterno che non è adatto all'uomo, da un mondo esterno che comunque in qualche misura è malato senza saperlo. La domanda che sorge spontanea è questa, ma allora chi sono i veri malati e chi sono i veri sani? Alla fine il malato, quello che proprio in virtù del suo disagio psichico riesce a vedere, quello che altri non possono, non sanno, non vogliono vedere, la contraddizione, l'assurdità dell'esistenza, forse appunto questo malato, questo nevrotico, quello che non si sa adattare, magari è più sano, ma molto più sano, dei cosiddetti sani. È un gioco particolare, no? Ribadisco, lui quando parla della salute di Augusta, da questo suo punto di vista straniato di nevrotico, lo dice anche da solo. Io rappresento la salute di Augusta come se fosse una malattia, come se fosse una serie di azioni ripetitive, di coazioni a ripetere, certe cose che vanno fatte perché? Perché non c'è ragione, ma vanno fatte così perché si sa che devono essere fatte così? Siamo sicuri che questa sia salute? O questo è semplicemente uno schermo nei confronti di una complessità, di una difficoltà della vita di cui non si vuole prendere atto, di cui forse è proprio l'inetto nevrotico che ha una consapevolezza più acuta rispetto alla quale però bisogna dire il personaggio di Zeno non ha un atteggiamento drammatico o tragico almeno fino all'ultima pagina, ha piuttosto una sorta di distacco ironico nei confronti degli altri e nei confronti di se stesso.